Pasqua si avvicina, come stanno andando le prenotazioni? Per Pasqua la sala è piena, abbiamo circa 120 persone e abbiamo pensato ad un menù tradizionale. Le festività richiedono le tradizioni, quindi piatti locali del posto, antipasti misti caldi e freddi. Non possono mancare i cappelletti in brodo, quelli della nonna. Abbiamo poi dei ravioli con funghi e salsiccia, ci sono il lanielo al forno, il coniglio in porchetta, un'arista di maiale al forno in salsa, i contorni, i vari patate al forno in serata mista e poi per concludere un buon dessert di Pasqua. Si arriva quindi alla stagione anche estiva, quella primaverile, quindi ci sarà spazio anche fuori e i clienti potranno stare anche fuori, non solamente dentro. Sì, infatti i clienti staranno anche fuori, quindi crea anche spazio in sala e questo ci fa piacere. Allora, al momento siamo abbastanza pieni, quindi la gente si è avviata comunque molto tardi rispetto agli altri anni, che noi due mesi già prima eravamo già pieni e invece abbiamo riscontrato che nei ultimi giorni hanno prenotato, quindi siamo abbastanza soddisfatti. E invece il vostro menù, cosa presenta, alcune particolarità o andate più sul tradizionale? Andiamo sul classico, antipasti, quattro voci, bis di primi e secondi, comunque a base di agnello, insomma, quindi la base è quella lì. Siamo quasi al limite, ci rimane due o tre tavoli da riempire, perciò diciamo che siamo soddisfatti. Diciamo che abbiamo fatto un mix di un menù fisso a 40 euro, dove abbiamo mischiato i nostri prodotti con i tipici piatti del Pasquale. Diciamo che nell'antipasto abbiamo messo i salumi nostri e dell'azienda, pecorino del Montefeltro e i soliti crostini fatti col pane in casa nostro. Poi, di primi, abbiamo fatto le tagliatelle rosse con il cinghiale e le lasagne bianche con le verdure di stagione. Nel secondo piatto, anche qui siamo andati sulla tradizione, il famoso castrato alla braccia e la pasticciata alla pesarese, con contorni di patate ma principalmente di erba di campagna. Anche col dolce siamo andati un po' sul tradizionale perché facciamo la colomba con il mascarpone.